La conferenza episcopale toscana si rinnova, il cammino continua nel segno della comunione, della fraternità tra le chiese toscane? Assolutamente sì, continua questo nostro rapporto veramente di grande serenità e franchezza. Il Cardinal Betori per limiti d'età ha lasciato il suo impegno e i confratelli vescovi hanno ritenuto che potessi continuare io insieme al gruppo di segreteria, al vicepresidente, insomma, a quello che si è fatto. Una bella esperienza per me che continua, sì, con qualche impegno, con qualche appuntamento romano in più, però ecco, tutto continua molto serenamente. Ci sono già alcuni appuntamenti prossimi, c'è l'ottavo centenario delle stimmate che vi vedrà insieme alla Verna, c'è in programma anche un viaggio in Terra Santa. Sì, così si era ipotizzato alcuni mesi fa, precisamente quest'estate, quando ci siamo ritrovati a Camaldoli. Certamente l'acuirsi della situazione purtroppo bellica lì in quelle zone ci ha fatto porre la domanda, anche perché io stesso ho detto ai confratelli già in precedenza, che muoverci in tanti, di quanti saremo, 8-10 vescovi, altre persone, insomma una delegazione di 20-30 persone, non dobbiamo andare a creare problemi, né a chi deve curare la forza pubblica, però insomma si è ritenuto che, ecco, soprattutto da parte della custodia, invece giustamente ci tengono e vedono questo come un segno importante e noi non ci tiriamo indietro.